Siamo partiti con questa operazione Scarica l'Incivile che serve proprio a sensibilizzare i tanti romani su quello che è un fenomeno di sversamento illecito di rifiuti. La stragrande maggioranza dei romani ha iniziato a collaborare con noi, con la nostra polizia locale, il nucleo NAD, Nucleo Ambiente Decoro, quello che sostanzialmente va a scovare gli zozzoni, quelli che abbandonano i rifiuti in maniera indiscriminata, li lasciano accanto ai cassonetti o più spesso purtroppo ai lati delle nostre strade. La campagna è partita, la collaborazione è grande, la stragrande maggioranza dei cittadini è stanca di vedere inquinata la propria città da pochi zozzoni, che però offendono Roma e tutti i romani. Chi ama Roma la difende.